torniamo a parlare di grande liuteria ma soprattutto di un grandissimo sconto su questa bellissima chitarra sigla buongiorno amici e bentornati qui siamo al bm blues ed io sono paolino oggi parliamo di halloween di offerte da paura ma prima di iniziare a parlare di questa super offerta come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale pollice alto non dimenticate la campanellina ebbene oggi è halloween la giornata di halloween e da fiber strumenti musicali abbiamo pensato di fare un'offerta proprio da paura infatti il codice sconto è proprio quello scrivetelo così paura andate sul sito di fiber poi qua in descrizione vi metto tutto il link corretto e anche il codice sconto come scriverlo mi raccomando per chi vuole questa super chitarra una manne quindi una gran bella chitarra di liuteria qua vi metto il link e ne abbiamo già parlato di questa chitarra così potete andarlo a vedere è veramente una chitarra fatta molto bene innanzitutto liutaio italiano quindi liuteria italiana la chitarra è come potete vedere la sua forma stratoforme unbucker al ponte e come ponte abbiamo un floyd rose e mini unbucker al manico un volume stop e lo switch killer è una cosa un po particolare su questa chitarra ma molto divertente selettore 5 posizioni i pick up gli unbucker praticamente li splitta e a farli diventare single coil suono del single manico è in acero come potete vedere guardate quanto è bello veramente bello è un bolt on chiaramente manico avvitato al corpo è uno slim veramente veloce i suoni sono eccezionali prendo un plettro così ve lo faccio sentire ho voluto farvi sentire un po l'effetto di questo veramente pulsantino rosso che trovate qui che fa quell'effetto on off no divertentissimo è una chitarra fatta veramente bene e adesso arriviamo alla super offerta di questa chitarra 20 per cento di sconto mettendo il codice sconto paura da oggi fino a domenica avete la possibilità di portarvi a casa questa chitarra che è usata chiaramente una chitarra usata e il negozio è a 799 20 per cento di sconto la portate a casa veramente con una cifra bassissima è un super affare non fatevelo scappare mi raccomando vi arriva a casa già con la spedizione compresa gratuita setup eccetera eccetera chitarra ripeto 3 kg e 3 3 kg e 4 più o meno di chitarra insomma è halloween dolcetto scherzetto io me la porterei a casa col 20 per cento di sconto noi ci vediamo giovedì prossimo che vi parlo di una chitarra strepitosa lunga vita al blues amici e buon halloween ciao Grazie per la visione!